Armi e droga, un vero e proprio arsenale. A scoprirlo i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che insieme ai colleghi del reggimento Campania hanno messo a segno il blitz nell'insediamento di edilizia popolare, chiamato rione legge 219 nel Napoletano, dove da tempo è in corso una guerra criminale per il potere sulla malavita. Un kalasnikov, una mitraglietta, cinque pistole e un silenziatore, insieme a centinaia di munizioni per armi comuni da guerra, erano state messe in un'intercapedine sotto al vano motore di un ascensore, sotto i parapetti di un terrazzo e ancora un fucile mitragliatore AK-47, una pistola mitragliatrice Scorpion e sei pistole, due delle quali da guerra, nascoste insieme a un silenziatore e a munizioni di vario calibro e a un chilo e sette di cocaina pura, con crack, marijuana e hashish già in dosi e confezioni pronte per lo spaccio al dettaglio. Intanto proseguono da parte delle forze dell'ordine le indagini per identificare i proprietari dell'arsenale. I militari dell'arma hanno inviato le armi al Racis di Roma per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue, intimidazioni o omicidi.